Oggi vi presento un risotto ai funghi con un tocco speciale, lo zafferano Ho preso i funghi porcini secchi, li ho fatti reidratare in acqua fredda per 15 minuti Dopodiché li ho scolati, conservando il liquido Adesso li vado a tritare grossolanamente e tengo anche questi da parte Passiamo ai fornelli dove cominciamo con un bel soffritto di scalogno Lo lasciamo andare dolcemente Aggiungiamo il riso, lo tostiamo per bene Quando comincia a fare questo rumorino, è pronto per essere sfumato con il vino bianco Aspettiamo che evapori E poi aggiungiamo l'acqua che abbiamo salvato dall'ammollo dei funghi porcini, saporitissima Aggiungendo poco per volta acqua bollente salata, porto il riso fino a metà cottura Ora andiamo con i funghi Mancano solo 5 minuti alla fine della cottura Il momento perfetto per aggiungere zafferano tra i cuochi Ed esaltarne le proprietà Prima però lo sciolgo nell'acqua tiepida Il nostro risotto, così oltre a un sapore e profumo speciale, avrà anche un ottimo colore Pronto! Non mi resta che mantecare con burro freddo di frigo e formaggio grattugiato E completiamo con prezzemolo e pepe E possiamo impiattare E adesso il mio momento preferito, l'assaggio Abbinamento perfetto, provatelo e fateci sapere nei commenti Buon appetito!